Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel nella vicenda della chiusura della A14 che ha mandato in tilt la statale 16 abruzzese nel tratto compreso fra Pineto e Montesilvano. Il jeep del Tribunale di Avellino infatti ha disposto la riapertura del viadotto Cerrano al traffico dei mezzi pesanti sebbene il transito resti interdetto ai trasporti eccezionali e ai tir adibiti alle merci pericolose. Dunque è stata accolta l'istanza di autostrade per l'Italia presentata dopo l'incontro con il Ministero dei Trasporti che aveva dato il via libera ad un monitoraggio maggiormente dettagliato del viadotto Cerrano con l'installazione di nuovi sensori, cosa che comporterà la chiusura del tratto autostradale dalle 23 di sabato e fino alle ore 5 di domenica prossima. L'attesissimo provvedimento di dissequestro del viadotto Cerrano diventato ormai una questione nazionale farà senza dubbio respirare cittadini e commercianti della zona anche se si dovrà capire quando la situazione tornerà definitivamente alla normalità e con quali modalità saranno effettuati da Aspi i lavori di adeguamento. Superata l'emergenza sul tavolo resta la partita legale che si aprirà sui danni subiti dai comuni come Silvi che hanno sofferto i disagi maggiori con la media di 5.000 tir in transito all'interno della città. Sul piede di guerra contro Aspi anche l'amministrazione di Montesilvano che per bocca dell'assessore Antoni Aliano ha già annunciato la richiesta di indennizzo del danno di immagine sofferto dalla città anche in relazione all'offerta turistica per la prossima stagione balneare. Allo studio dell'assessore alla mobilità montesilvanese ci sarebbe una class action che dovrebbe inglobare anche i danni patiti dai commercianti. Sulla notizia del parziale accoglimento dell'istanza di dissequestro del Cerrano c'è stato anche il commento del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio che si dice soddisfatto solo parzialmente per il divieto di transito che permane nei confronti di trasporti eccezionali e merci pericolose. Nei prossimi giorni continua Marsilio monitoreremo il tratto interessato per quantificare il volume di traffico. In ogni caso adesso passata la fase acuta dell'emergenza chiederà la regione al ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo per affrontare seriamente la questione relativa al corridoio adriatico. E' importante, conclude il presidente di regione Abruzzo, progettare lo sviluppo del corridoio adriatico assieme alle altre regioni in rappresentanza dei territori interessati al fine di definire una strategia adriatica per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti.